Ancora polemiche sul caso Haka. A due giorni dal rinvio a data da destinarsi della prossima Assemblea dei Sindaci per le elezioni della nuova governance, il desidio ora è quello tra chi vorrebbe provvedere alle elezioni di un nuovo amministratore unico e chi invece vorrebbe tornare alla vecchia formula del Consiglio d'Amministrazione. La spaccatura si divide tra centrodestra, che ricorda il risanamento operato proprio dalla scelta di un amministratore unico e nello specifico l'uscente Vincenzo Di Baldassarre, e il centrosinistra che chiede di cambiare governance. Noi siamo molto perplessi, non riusciamo a capire perché si è voluto cambiare innanzitutto la forma di governo. L'amministratore unico negli ultimi tre anni aveva dimostrato di lavorare meglio, lavorare di più, costare di meno per le casse pubbliche, invece una parte del PD e purtroppo anche una parte del centrodestra, legacy nuovo centrodestra, opta per riaprire il cosiddetto poltronificio. CDA non significa naturalmente un aumento di spesa perché il CDA costerà come l'amministratore unico, ma occorrono professionalità trasversali per affrontare queste nuove sfide. Tanto per dirne una, a fine anno scade l'affidamento del depuratore in capo ad un soggetto privato, detto affidamento tornerà in capo ad ACA ed è evidente che questa infrastruttura così importante, sulla quale come è noto sono in corso lavori e approfondimenti per la sua estensione richiede professionalità all'altezza.